Purtroppo non ho mai avuto modo di giocare all'Arezzo, ma appena ho avuto l'opportunità non ci ho pensato due volte. Anche se avevo il contratto a San Benetto, ho rescisso e sono venuto qua e ho detto al direttore che sia di Serie D che Serie C sarei rimasto alla squadra. Sicuramente il campione di Serie C non che sia più facile, però magari i campi e le squadre sono molto più belli della Serie D. Però è questo il nostro compito, andare a giocare e portare a casa i risultati ogni domenica. Sicuramente un campionato molto difficile, un campionato dove tutte le squadre di questo girone vorranno battere l'Arezzo, però sulla loro strada troveranno sicuramente un gruppo affamato che cercherà a tutti i costi di arrivare all'obiettivo finale.